Di Totti a Nedvede, recupera Dakur per la Roma, poi Nedvede da dietro su Totti e arriva Dakur a fare da giustiziere, c'è un duello con Ibrahimovic, Dondarini arriva in campo anche Spalletti a separare i giocatori mentre Kivu porta via insieme a Mexes e Dakur. E si è scatenata tutto su un brutto fallo di Nedvede da Tergo su Totti che vedremo come lo giudicherà, lo valuterà Dondarini. E adesso Ibrahimovic sta ritornando su Dakur, cercano di calmarlo, Kivu e Mexes mentre viene riproposto l'intervento di Nedvede su Totti. E soprattutto la pallonata di Ibrahimovic su Totti a terra. È stato un tiro bellissimo perché con un esterno che andava proprio a girare vicino al palo di... Attenzione perché c'è il rosso, rosso per Ibrahimovic e per Dakur e giallo per Nedvede, così ha deciso Dondarini. Dopo 17 minuti e 40 secondi, doppia espulsione, Ibrahimovic e Dakur che adesso si sono abbracciati e cartellino nei confronti di Nedvede, del reo dell'intervento su Totti. E dubbiamente Dondarini non ha voluto fare sconti, ha punito tutti e ci è andato giù pesante perché due espulsioni secche e un'ammunizione per l'intervento di Nedvede e questo sarà probabilmente il metro di giudizio che terrà per tutta la gara. Intanto Spalletti sta parlando con il quarto uomo, ecco Dakur che mette la mano in faccia a Ibrahimovic che cerca di tenerlo per il collo. Poi arriva anche De Rossi, Kufre, Cannavaro, vengono separati duellanti per usare questo termine. Ma hanno fatto tutto con l'arbitro in mezzo, non potevano non essere...